Il corso di canto avrà cadenza settimanale, quindi le lezioni che sono individuali saranno scandite una volta a settimana La lezione di canto si suddivide in due parti principali La prima parte è dedicata al studio tecnico della canzone e anche della parte narrativa del testo La seconda parte è dedicata a quello che è l'esecuzione del brano ma anche all'estero dell'allievo che vuole poi mettersi in gioco con le sue canzoni Il corso è dedicato a qualsiasi fascia d'età, da ragazzini a più grandicelli anche alle persone più anziane, non c'è un limite La finalità di questo corso, del corso di canto, è proiettare l'allievo ad un'esecuzione finale che può essere anche quadruvata ad uno spettacolo ipotetico da fare tutti insieme con gli altri corsi Grazie 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 Grazie